No ma il finale che aveva finito tutti i colpi di tutte le armi Erano quelli che stavano qua sotto ragazzi comunque Ok ok Che io avevo ucciso il prete all'inizio Si 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 Con la felis e lo stronzo col cecchino che tra l'altro stava sopra ci troviamo Medivac per me mi serve assolutamente Mamma mia Terribile Terribile Ecco qua C'è gente ragazzi Ma io non ho niente Dalla torre dalla torre Ancora Allora che parto ce ne dobbiamo andare da qua Ma vaffan Sta su quella cazzo di torre Vuolete la versione noiosa o la versione che vinciamo? Eh la versione noiosa cosa che ti fa fare il boss Comporta che mi vado a fare l'altro boss Vado a fare il boss Ma si si fatti il boss Tu dici che il rettile faceva parte delle taglie? Quello che mi ha ucciso ha preso la taglia Alox Ah ok ok va bene Almeno Mi sto venendo a prendere amici Concertina su Ok ok vai a prendere amici 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 Ok guarda non possiamo fare niente Andiamo ai rifornimenti andiamo a combattere Fermo lì Eh vabbè il cazzo Va bene così Ci sono venuti in faccia comunque Sapevano tutto Ci hanno visto Peccato questo parassita Di merda Perché il team Prizio non perdona Ci rincontreremo team Alex e Bleth Black Death MVP Aloxy Alox Alox Scusa Alox Alox Dai dietro ragazzi No non sono loro Sono altri Mi ha fatto Alox Usciso Wow Allora in mezzo a questo campo È morto Questo campo qua Però lo sparo del Non viene da lì No era 71 metri Con che arma per curiosità Winfield marksman Come Viene Oni Don't Sopra Vai che parco Ah!